Buongiorno e benvenuti in un nuovo video in questo video come avete detto al titolo faremo una nuova challenge Mangio per 24 ore solo prodotti euro spin sono le 8 e 37 Ovviamente non si vede una cip 8 e 37 di martedì 17 dicembre screen come sempre e ve lo metto Secondo me questo video anche un po' un video tra virgolette sgarro Perché io non sicuramente non riuscirevo a mangiare una quota proteica degna Stavattina potevo fare anche il latte con le proteine però non mi andava proprio E quindi avevo bisogno di una bella stazione di latte e caffè Ovviamente non è che vada a prendere io volevo fare per marchio Tipo volevo fare tre mulini che sapete che è euro spin Però tre mulini non aveva tantissime cose E quindi nel girare le confezioni ho visto che ogni confezione ha questo logo dietro Cioè euro spin Vedete? Questo qua Quindi va super super bene E questa qua è del marchio però dolciando Quello praticamente sono 4-5 marchi Quindi ci sta Quindi apriamo Guarda come sono belle Sono fatte così Quindi due ce le mangiamo stamattina Ho una fame assurda Quindi iniziamo Mi sono svegliata da poco Ma chi sto morendo morendo di giorno Sembra alla fine Sembra un plum cake È la stessa cosa Sesso profumo Solo che ha forma di ciambella È un po' duretta Non voglio sporcare qui sopra il tonel di mamma Stavolta Oddio no raga Mi è arrivato un messaggio troppo bello Su Instagram Da una di voi Un bacio con i Federica Ciao Giulia Lo sai che ci ammiro Sono una mamma di 33 anni E io e mia figlia ti guardiamo sempre E queste sono per me Le soddisfazioni più belle Come vi dico sempre A me interessa arrivare a voi Ne ho sicuro che quando sono arrivata là Per me va bene Del resto non mi importa proprio Ormai lo sapete Andiamo con la seconda ciambellina E poi vado a prepararmi Che devo accompagnare a mamma Al supermercato Pensate se ti guardo alle carote Non sarebbe anche quelle carote O alle carote Oppure alla zucca Non vedo me è spettacolare Quindi adesso io finisco di bere Il mio lattuccio O il mio caffèuccio E noi ci vediamo dopo Con il pranzo Eccoci qua con il pranzo È un po' tardi Sono le 13.27 Vi faccio direttamente Lo screen però Ve lo faccio vedere Comunque oggi è giorno 17 Ma già ve l'ho detto Ho fatto il locus cous Con la crema di Sì di Anacardi Stavo dicendo Sì sì Con la crema di asparagi Questa crema è spettacolare La prima volta che l'ho provata Mamma mia È veramente una bomba Proprio di sapore Proprio buono Ha un po' di sale in più Però vabbè Spero che non si scarica la macchina fotografica E che volevo dire Se vi vedete Con questi capelli a leoncino È per il semplice motivo Che ho appena finito di farmi lo shampoo Poi dopo vado a truccarmi E a prepararmi per andare a scuola guida Comunque la va È troppo buona Poi ho fatto il couscous Ho fatto Allora in questo diceva No vi devo fare un video dopo Quando lo prendo Diceva di fare Tutta la bustina In 750 ml di acqua Tutto insieme E poi andava mescolato Io sinceramente Ho fatto Un 500 ml di acqua E tutta la bustina Che poi vabbè Dividerò La mangerò domani Finito di mangiarla Perché comunque È 90 grammi Però raga Devo dire che Se mettevo troppa acqua Secondo me Mi veniva poco densa Troppo liquida Quindi non l'ho fatta più concentrata Invece per il couscous Ho fatto metà Bicchiere di couscous 80 grammi E un bicchiere di acqua No mi sono sporcata Vabbè Comunque la va Troppo troppo buono Perché poi il couscous È insapore Quindi È fantastico Comunque dovete provarlo Se mi sbaglio C'era anche i funghi Troppo buono Questo con un po' Di petto di collo Sbriciolato Da sopra Spettacolo Però oggi Dobbiamo mangiare Solo cose E così Potevo metterci anche Un po' di crociutto cotto Un po' di affettato Di tacchino Però sinceramente Non Non mi andava Però mamma mia Che bontà Oggi non fa niente Se non rispettiamo La vota protein Che ce ne frega Almeno per oggi E proprio un purè Un po' di crociutto cotto Un po' di crociutto cotto Pensandoci bene Pensandoci bene Se mi conserverò Il tallo L'affettato di tacchino Per il post-workout Insieme ovviamente Solo L'affettato di tacchino Ma insieme Ad una chicca Ovviamente Comunque troppo 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 buona E quindi adesso finisco E poi E poi metto a carica le pile E noi ci vediamo Direttamente stasera Direttamente stasera Con il post-workout Eccomi qua con il pre-workout Sono le 15 e 30 Sinceramente io tra poco Devo andare a scuola guida Ma stavo morendo di fame Infatti ho fatto un po' di latte Con le proteine di bulko A tiramisù Sapete che questo È il mio bonus Sempre E poi andrò a mangiare I cereali Con il fiatone Allora Siete fiacchi integrali Ai frutti rossi Della tre mulini Ma voi già avete visto tutto Bellini Vi faccio il video così Vi faccio vedere come sono Spero veramente Che tutto il cuore Di non sporcarmi Mamma mia Ci voleva una bella tazza Di cereali Perché comunque Mi vado a dare Sempre verso le 5 Mi vado a dare Finito Adesso ci vediamo Direttamente stavolta Con il post workout Dopo Eccoci qua Sono le Quasi le 8 Solito screen Sono quasi le 8 Oddio Aspetta Mi è arrivato un vostro messaggio Eccolo qua Giorno 17 Io ho fatto i tortellini Però prima vi faccio No vabbè raga Io la memoria piena Siamo un'unica cosa Ok Fatto Eccomi qua Allora Come avete visto Io ho preso tutto All'Eurospin Solo che l'affetto di tacchino E la panna Non aveva dietro il logo Però raga Io l'ho preso lì Potete anche andare a vedere Perché il marchio Pathos Land E quell'altro lì Che non ricordo L'affetto di tacchino E dell'Eurospin Però dietro i tortellini C'era il marchio Comunque raga Io ne ho assaggiato uno Per vedere se era pronto Ed è qualcosa di assurdo Vabbè è troppo buono Le faccio vedere dentro Il ripieno È buonissimo Ogni volta che mangio questi Mi viene in mente il video Quello lì della 10.000 calorie challenge Una dell'ultimo L'ultimo proprio Dove abbiamo mangiato Quanto era? 500 grammi di tortellini Sì Un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, 11 dicembre, sì, 18 dicembre. Super morbido. A parte che erano tutti così i panettoni là. Sì, ho rotto tutto. Bene, non c'è la cioccolata. C'è l'uvetta dentro. Ovviamente senza i banditi c'è l'uvetta. Qua mi aspettavo di trovare i cocciccioccolato, però va bene così, mi piace lo stesso. È bello morbido. Non sembra tipo un panettone sottomarca, zero. È scioglio. No, raga, è troppo buono. 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 Senza questa cosa. Senza i banditi. Perché a me, in questo momento, dove c'è l'uvetta, i banditi non più ai banditi, che si chiamano, non mi piacciono mai. Quindi è ottima questa cosa. Però pensate se erano. C'era con le coccie di cioccolato. Io finisco di bere il mio bell'attuccio. Provado a prepararmi per andare a scuola. Io spero che questo video mi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao.